Salve a tutti, io sono Giuseppe Raudino e ho scritto Stelle di un cielo diviso, un romanzo pubblicato da Alessandro Polidoro, editore, nel giugno del 2019. Con questa serie di podcast che mi piacerebbe raccontarvi il romanzo, appunto non leggerlo ma raccontarvelo, e parto proprio adesso con il primissimo capitolo. Per chi volesse seguirmi potrà prendere il mio romanzo e cominciare da pagina 7. Il primo capitolo si apre, beh forse dovrei dire prima qualcosa riguardo a questo capitolo. Il primo capitolo potrebbe essere letto come un racconto a sé stante e infatti era un racconto che ho scritto frequentando un corso della scuola Holden di Torino. Come molti di voi sapranno la scuola Holden di Torino è forse la più famosa scuola di scrittura creativa in Italia e ci sono tanti scrittori, tanti fra i docenti ed è diretta da Alessandro Baricco. Ebbene, qualche anno fa frequentai un corso sul personaggio, sulla creazione del personaggio e lo scopo principale, oltre ad acquisire le conoscenze per appunto caratterizzare un personaggio in modo efficace, lo scopo principale era quello poi di scrivere un racconto nel quale si presentava questo personaggio e condividerlo con tutti gli altri del gruppo e con il docente che in quel caso era Paolo Di Paolo, uno scrittore abbastanza affermato, oggigiorno ha scritto al suo attivo numerosi romanzi e alcuni anche di successo. La prima cosa che ho scritto appunto di questo racconto è la descrizione di un ambiente nel quale il personaggio comincia a muoversi, a prendere forma. E allora, tornando al libro di cui vi sto parlando, pagina 7, si apre il primo capitolo e c'è una giovane donna seduta accanto a un finestrino. Quindi siamo all'interno di un aereo e questo aereo sta atterrando da qualche parte. Nella qualche pagina più avanti dirò immediatamente, rivelerò immediatamente dove sta andando e più precisamente sta per atterrare a Istanbul, in Turchia. Ebbene, l'immagine che offro immediatamente all'apertura del romanzo, dell'incipit, è di questa donna un po', potremmo dire, un po' malinconica, un po' attratta dai ricordi per quello che vede fuori dal finestrino, mentre indossa un paio di auricolari e ascolta una canzone che si intitola Yellow. Per chi non lo sapesse, è anche facile da trovare con una ricerca online, Yellow è una canzone dei Coldplay, che venne pubblicata nell'anno 2000. Quindi in qualche modo la canzone vuole anche specificare l'anno in cui ci troviamo. Il romanzo quindi si apre all'interno di un ambiente chiuso come l'aereo, con una donna che ascolta questa canzone, della quale appunto è profondamente innamorata, piace moltissimo questa canzone, e si interroga, come mai Yellow che vuol dire giallo? Ecco, io, dice la donna, io qui fuori sto vedendo completamente azzurro in tutte le gradazioni, in tutte le tonalità, e infatti guardando fuori dal finestrino può osservare il turchese vicino alla riva della costa, fino al blu intenso, lapislazzuli, del mare più profondo in lontananza. l'aereo sta sorvolando il bosforo e c'è tanto blu che appunto invade i ricordi della donna. E poi la donna lo dice, l'ultima volta che era stata a Istanbul si era trattato di un viaggio di tanti tanti anni fa, tanti anni prima quindi, subito dopo che si era laureata e stava per tornare a Londra. Quindi adesso sappiamo che la protagonista in qualche modo è passata da Istanbul molti anni prima quando si è laureata per tornare a Londra che è la sua città natale. Subito dopo si rivela il nome della donna, che è Catherine Arkart, è un nome un po' difficile da pronunciare ma si rifà al nome di una tenuta di un castello nei pressi, in Scozia, nei pressi del lago famoso per il mostro di Loch Ness. Ovviamente Loch Ness non c'entra nulla, il nome era molto suggestivo e questo lo racconto agli ascoltatori. Il nome è anche lo stesso nome che ha un personaggio in una serie televisiva, House of Cards, che molti conosceranno la versione americana di questa serie televisiva perché è stata molto famosa. Ma la serie televisiva originale di House of Cards venne prodotta, se non ricordo male, sul finire degli anni 80 e inizio degli anni 90 in Inghilterra dalla BBC ed era una miniserie in poche puntate. Il primo ministro, che poi sarà il presidente degli Stati Uniti nella serie televisiva, nel remake americano, il primo ministro del Regno Unito era appunto un signore che come cognome faceva Ark Arts. Ebbene, la donna viene avvicinata dalla Hostess, siamo ancora sull'aereo, stiamo sorvolando il Bosporo, lei guarda fuori dal finestrino e vede tanto blu che le fa affiorare dei ricordi di cui ancora non si sa nulla ma di cui il libro si riempirà praticamente. E questi ricordi vengono interrotti appunto dalla Hostess che le si avvicina. La Hostess è una donna apparentemente bella ed è bruna, di carnagione scura, o direi abbronzata. E la chiama per nome, con riverenza. La chiama dicendole... beh, in inglese non si può rendere perché in inglese non abbiamo la differenza tra dare del lei e dare del tu, però ci sono altri accorgimenti che fanno capire la formalità del linguaggio. In questo caso la Hostess dimostra di conoscere la passeggera, chiamandola per cognome, Miss Ark Arts, e dimostra che la passeggera ha una certa, come dire, ha una certa importanza. C'è un certo riguardo nei suoi confronti. Quindi la Hostess le si avvicina avvisandola che sarebbero atterrati tra poco. Addirittura la nostra protagonista, Catherine, ci fa sapere che teneva molto a vedere quello spettacolo fuori dall'oblò dell'aereo e dice che aveva chiesto alla Hostess di essere avvertita prima dell'atterraggio e addirittura di essere svegliata, anche se si fosse trattato del caso in cui stesse dormendo, avrebbe dovuto svegliarla perché non voleva perdersi quello spettacolo. E subito dopo si vede, si vede cosa si vede fuori dall'oblò. Quindi man mano che si scende, man mano che ci si avvicina all'aeroporto di Istanbul, cominciano a emergere le guglie dei minareti, che appunto la voce narrante del mio romanzo dice che scintillano sempre più forte. Quindi man mano che scendono con l'aereo, le guglie dei minareti scintillano sempre più forte. E poi si vedono alcuni elementi geometrici di fronte a delle moschee. Ci sono dei quadrati e dei rombi, quindi delle geometrie nette, chiare, precise, su uno sfondo bianco con delle linee ortogonali nere. E fa una riflessione. La protagonista pensa che quegli elementi così architettonici e quelle linee così perfettamente allineate e ortogonali sono l'unico segno di ordine nella vita turca, nella vita caotica della Turchia. E dice di averlo imparato per esperienza. Perché secondo la voce narrante, quindi secondo Catherine, il ritmo delle passioni che attraversano il cuore della gente, là in Turchia è predominante. E allora, a proposito di ritmo delle passioni e di caos, si scopre subito che l'aereo sta atterrando in ritardo. E atterrando in ritardo, Catherine perderà la coincidenza per Cipro Nord. Destinazione finale, Ercian. L'aeroporto di Ercian a Cipro Nord. Beh, questa è la prima di una lunghissima serie di riferimenti a Cipro Nord, perché la maggior parte del romanzo si svolgerà proprio in questa zona del Nord, occupata dalla Turchia, dagli anni settanta. Beh, si scoprerà ben presto cosa c'è dietro questa cultura turca, questo caos del Cipro Nord. Il libro racconterà anche sullo sfondo alcuni elementi storici per far capire appunto il dramma in cui vivono i ciprioti oggi. Cipro, come isola, è parte dell'Unione Europea, Cipro è una nazione, ma la metà di questo territorio è occupato dall'esercito turco, da oltre 40 anni praticamente. E questo fa sì che il popolo cipriota non sia più unito, ma lo vedremo forse nelle prossime puntate. Adesso non è il caso di fare delle digressioni storiche sulla condizione di Cipro, anche se ha molto a che fare con il romanzo, perché è uno dei motivi per cui Catherine sta tornando a Cipro. E allora, per prima cosa vediamo che appunto ha perso la coincidenza per Cipro Nord, ma la hostess la rassicura dicendole sì, effettivamente siamo in ritardo, ma non ci sarà alcun problema, perché potrà prendere il volo successivo per Cipro Nord e entro mezzanotte arriverà lì. Sì, c'è un po' di ritardo, ma insomma il modo in cui il ritardo viene considerato in una cultura mediterranea è ben diverso da come viene considerato nella cultura anglosassone alla quale Catherine appartiene e alla quale Catherine è tornata dopo un lungo periodo vissuto a Cipro. Beh, cosa fa? C'è intanto uno scambio di sguardi tra Catherine e la donna, la hostess. Entrambe sono due donne belle, due donne diverse. Catherine è bionda, la hostess e Bruna. Catherine ha una posizione sociale ed economica molto elevata, forse non si può dire lo stesso della hostess, la quale infatti guarda le scarpe di Catherine, la cui suola rossa rossa rivela, beh, rivela il fatto che sono delle scarpe firmate, griffate molto costose, che probabilmente la hostess non si può permettere. E quindi c'è uno sguardo un po' di invidia, che viene colto da Catherine, viene colto anche nel momento in cui la donna guarda una ciocca bionda dei capelli di Catherine, e come reazione Catherine tocca il bracciale che ha al polso, ed è un bracciale che ha gli stessi colori del mare che vede fuori, quindi turchese, blu, marino, blu, oltremare, lapislazzuli, e che le era stato regalato da Yasin molti anni fa. Quindi, oltre alla protagonista Catherine, viene introdotto, almeno per nome, uno dei co-protagonisti, vorrei dire, un personaggio importantissimo, che è Yasin. Cosa dice Catherine di Yasin ricordandolo? Beh, dice che intanto ci rivela che non l'ha più sentito da tanto tempo, che non l'ha più sentito da quando lei è praticamente ripartita ed è tornata a Londra. Poi dice che ogni tanto le capita di pensare a lui, ma come potrebbe capitare a chiunque di ricordarsi di un vecchio amico, di una persona che si è amata. Infatti ammette che sono stati degli anni importanti trascorsi insieme, ma che sono cambiati in questo frattempo, e addirittura si chiede se lui la odi o meno. Non è sicura quali siano i sentimenti di Yasin, o quali potrebbero essere i sentimenti di Yasin nei suoi confronti. Ebbene, abbandonatasi a questa riflessione, si passa a un'altra scena in cui siamo appunto all'aeroporto di Istanbul ed è notte, quindi si riparte, si va sempre verso sud-sud-est, si sorvola quindi con un altro volo l'Anatolia, poi un tratto di mare tra l'Anatolia e Cipro e poi finalmente si avvista Cipro. E c'è una virata dell'aereo che le permette di appunto cogliere tutta l'isola con uno sguardo. quindi siamo di nuovo all'interno di un aereo, dall'alto verso il basso, ci si avvicina all'isola e grazie a una virata Catherine è in grado di cogliere con lo sguardo tutta l'isola. E cos'ha quest'isola di particolare? Ecco che poi si rivela il primo conflitto, la prima divisione, una divisione che tornerà anche come tema in molti casi e la divisione anche riflessa nel titolo stesso del romanzo che vi ricordo è Stelle di un cielo diviso. Per chi sta seguendo con il libro in mano, siamo a pagina 9 e Stelle di un cielo diviso appunto racconta la storia di Catherine che adesso finalmente sta atterrando a Cipro dopo tanti anni di assenza. E dicevo, come si fa a vedere questa divisione dell'isola? Siamo, è notte, è buio, ma fuori si nota appunto che l'isola è divisa in due parti perché la parte nord, più arretrata, soggetta alla dominazione, all'occupazione turca, è quasi al buio, ci sono poche luci. Mentre la parte sud, quella che mostra, che può mostrare più benessere, che mostra un contatto con l'Unione Europea, che viene considerata dalla comunità internazionale, l'unica e legittima parte di Cipro, almeno il governo è quello legittimo, beh, la parte sud è illuminata, è piena di vita, è piena di ricchezza. Catherine vede questa distinzione e proprio parla di uno squarcio, dice proprio l'isola è squarciata in latitudine come da una ferita, come da una ferita, da una lunga ferita che l'attraversa per intero. Ed è proprio questa la divisione, non è longitudinale, ma è proprio latitudinale. Se non ricordo male, saranno circa 180 km di muri, filo spinato, di confine tra nord e sud, che va da ovest a est. E allora, arrivata sull'isola, atterrata all'aeroporto di Ercan, che tra l'altro è un aeroporto che ufficialmente non esiste, perché trovandosi nella parte occupata dalla Turchia, quindi legalmente occupata dalla Turchia, secondo il diritto internazionale, è un aeroporto che non si è mai visto assegnare un codice ufficiale, per cui non esistono voli che da qualunque parte del mondo vadano a Ercan e viceversa. Gli unici voli operati su Ercan sono operati da compagnie rigorosamente turche e queste compagnie turche possono mettere in contatto Ercan con il suolo turco. Cioè nessun volo, partendo da Ercan, può atterrare da un'altra parte, perché non sarebbe riconosciuto, non avrebbe un piano di volo, non sarebbe tollerato. E allora, a Ercan c'è un autista che dissimula il disappunto perché, insomma, è un po' arrabbiato, è un po' arrabbiato perché ha dovuto aspettare molto, c'è stato questo ritardo, però ha un sorriso, ha un sorriso sul volto e usa parole di riverenza, usa gentilezza. Ma Catherine dice, io comunque queste cose, queste sfumature, anche se impercettibili, le avverto lo stesso, le riesco a cogliere perché ho abitato a lungo sull'isola e conosco il modo di fare degli isolani. Si mettono in macchina, l'autista prova a fare qualche battuta su Cipro, dice di essere sorpreso quando Catherine gli racconta di aver studiato sull'isola diversi anni prima. In realtà Catherine non crede all'autista, lei pensa che l'autista lo sapesse già e che in qualche modo fosse stato inviato lì, che qualcuno abbia fatto in modo che fosse proprio lui l'autista di Catherine, in modo da sapere qualche informazione di più, una specie di spia o un informatore della polizia, qualcuno che gli arrotondasse lo stipendio di fine mese. fa alcune domande intirette per capire perché è lì, perché sta tornando, ma lei non gli risponde e quindi poi si fa zitta, si fa zitto e si mette a canticchiare alcune delle canzoni che la radio locale sta passando. Qui a questo punto siamo a pagina 10, Catherine rivela un po' di più il motivo della sua visita ed è appunto il bisogno, l'incarico di incontrare alcuni esponenti politici locali e riferire tutto al segretario generale delle Nazioni Unite, che allora era Kofi Annan, il quale appunto ha incaricato di persona Catherine per avere delle informazioni, perché c'è un primissimo, siamo alle primissime fasi di un piano di unificazione dell'isola. Le Nazioni Unite vorrebbero che l'isola tornasse sotto una sola bandiera, che tornasse unita, come lo era stata fino agli anni 60 e 70. Gli ultimi a dominare l'isola erano stati gli inglesi, poi alla partenza degli inglesi per neanche un decennio avevano provato ad andare d'accordo, perché l'isola era una, ma bisogna dire che le comunità sono sempre state due da diversi secoli, la comunità greca e la comunità turca. Quindi quando parliamo di Cipro parliamo spesso di greco-ciprioti e turco-ciprioti. Ad ogni modo, nei giorni successivi Catherine dovrà incontrare alcuni esponenti politici, ma nel frattempo ci rivela che ha un paio di giorni completamente liberi, prima di questi appuntamenti, completamente liberi per se stessa, e ci rivela che lei ha proprio voglia di ripetere da sola e andare in giro a farsi praticamente spezzare il cuore per la nostalgia. Quindi ha voglia di spiaggia, di mare, ha voglia di fare una passeggiata tra gli ulivi millenari che vengono attraversati da sentieri polverosi. E dice, voglio ripetere da sola tutto quello che ho fatto quando ero ventenne e vedere che effetto fa. Ovviamente quando ero ventenne scopriremo che tante cose le ha fatte con un'amica che ancora non è stata nominata, si chiama Mary, e con Yassim e con altri personaggi un po' secondari come Angel. Allora, dicevamo che il tassista, l'autista sta accompagnando all'albergo la Catherine e in autostrada viaggia a una velocità moderata ascoltando la musica locale. E questo ascoltare la musica locale alla radio è un altro elemento che fa ricordare di Yassim. Catherine si ricorda di Yassim perché anche Yassim era interessato e ascoltava spesso la musica locale. Stanno viaggiando su una vecchia Mercedes e il cruscotto deve avere una lampadina fulminata perché non è illuminato. Quindi praticamente l'autista non sa esattamente a che velocità stanno andando e per non rischiare forse di eccedere troppo nella velocità si mantiene a una velocità relativamente bassa. Quindi procedono lentamente su un'autostrada notturna quasi deserta. Il testo non lo dice ma i finestrini sono sicuramente abbassati perché da fuori entra, la raggiunge l'odore della campagna cipriota, l'odore notturno della campagna cipriota. E poi ci sono anche i lampioni che sono di colore arancione, si intravedono delle palme al di là del guardrail, si intravedono dei cespugli di oleandro, arrivano degli odori fortissimi e delle visioni tipicamente mediterranee. E lei proprio dice sì, sono proprio a Cipro, quasi come se fosse un sogno. Ora si rende conto che è a Cipro e che tutto sembra uguale ad allora. Ebbene, arrivata in albergo, ovviamente si fa consegnare la chiave, entra, accende l'interruttore, ma non fa quasi in tempo ad accenderlo, che viene invasa da un profumo forte e molto familiare a lei. Allora, tutto dice si svolge in un attimo, siamo a pagina 11, il portachiave, le scivola di mano, sente invadersi da un flutto di angoscia, perché? Perché il profumo che ha sentito è il profumo di Yasin, o almeno crede che sia il profumo di Yasin. Diciamo che è sicura che si tratti del profumo di Yasin, non è sicura se quel profumo esiste o meno. Infatti dice, è un po' come uno spettro, come un fantasma, è impalpabile, però è là, è vero. Quindi fa qualche passo, raccoglie la chiave dal pavimento, si toglie gli orecchini, li poggia sul comodino, scosta il lenzuolo e si siede sul letto. Il profumo di Yasin, insieme a questa circostanza in cui lei sta seduta sul letto, le fanno venire in mente i ricordi del suo alloggio universitario e della prima notte che aveva trascorso con Yasin. E lei dice immediatamente, gli avevo spiegato con determinazione che lasciargli accarezzare i miei capelli per me significava molto più che fare l'amore. Con questa descrizione volevo rendere l'idea dell'inizio di una storia all'insegna della dolcezza, anche se la passione sottende la dolcezza e lavora al minimo, al regime minimo, pronta a esplodere. Però il segno con cui si apre la storia tra Yasin e Katrin è quello della dolcezza, è quello dello stare insieme perché ci si piace, ma anche perché ci si rispetta in qualche modo. Più avanti vedremo cos'era accaduto prima e perché, più avanti nel libro insomma, è perché Katrin chiede a Yasin nella prima notte che trascorrono insieme di non fare l'amore. E quindi a quanto pare lei si risveglierà dopo quella notte trascorsa così senza, con Yasin ma ancora sveglio mentre le accarezze i capelli. Il giorno dopo Katrin si risveglia e vede che le tende non riescono a trattenere la luce forte, è una luce che abbaglia, una luce violenta, la luce del mattino cipriota. Allo stesso tempo si rende conto che il climatizzatore spento per cui si sveglia in perlata di sudore e ha subito bisogno di una doccia. Quindi lascia che l'acqua le scorra sul corpo e poi comincia a rendersi conto che i ricordi si fanno sempre più insistenti ed è sempre più difficile dominarli, ammesso che li voglia dominare, ammesso che li voglia mandar via. Quindi si chiede cosa le stia capitando, perché mentre fa la doccia pensa, ricorda come se ci fosse Yasin fuori dalla porta pronto a porgerle un asciugamano e poi a tornare i suoi libri di medicina. Scopriamo quindi che Yasin era uno studente di medicina, mentre qualche pagina prima Katrin aveva detto di essere una studentessa di relazioni internazionali e di aver appunto di essersi laureata in relazioni internazionali. E allora, la prima mattina a Cipro, dopo tanti anni, guarda che c'è un bikini pronto sull'altro letto, evidentemente ci sono due letti nella stanza d'albergo e questo bikini l'aveva preparato perché potesse andare al mare, aveva detto che aveva voglia di mare, di sole, di passeggiate negli uliveti. Ma c'è qualcosa che la trattiene, ha dei dubbi. Quindi torna a toccare il braccialetto, a giocare con questo braccialetto, a girarlo attorno al polso, a girare le perline di cui è fatto. Ed è un gesto che lei fa sempre quando è indecisa, sempre quando deve fare una scelta. In quel momento non sa cosa vuole fare, non sa cosa fare, non sa cosa sia meglio fare. Piccola parentesi, il braccialetto è molto comune per coloro che hanno visitato la Turchia o che siano entrati in contatto con una delle tante realtà mediterranee, quindi anche a Malta o anche in altri posti del Mediterraneo. Il braccialetto, almeno stando ai colori, è possibile riconoscere il cosiddetto occhio di Osiride, che sarebbe praticamente un portafortuna, un amuleto che si ritiene efficace a respingere gli spiriti negativi, le avversità, il malocchio. Quindi siamo un po' nell'ambito della superstizione. E tra l'altro la superstizione, come vedremo, è uno dei temi molto forti in questo romanzo. Ebbene, chiusa parentesi, abbiamo a pagina 12, Catherine che sta giocherellando con questo braccialetto che le era stato regalato da Yasin, che rivela che il loro amore è nato, sì, sotto il segno della tenerezza, ma anche sotto il segno della superstizione. Proviamo Catherine che sta ancora giocherellando con il braccialetto, alla fine si decide, lascia perdere il costume e indossa una gonna e una camicetta leggeri, leggere, e dice, so che sarà tempo perso, ma voglio fare una passeggiata fino all'ospedale, non si sa mai. Vediamo cosa... sono troppo curiosa. Sono troppo curiosa e questo pensiero di andare a fare una passeggiata fino all'ospedale della città, che è in Nicosia, la capitale, tra l'altro capitale divisa in due, come una volta è stato, come è stata una volta a Berlino con il muro, a Nicosia tutt'oggi abbiamo una divisione all'interno dell'Europa. Ebbene, si trova a Nord, c'è un ospedale anche nella zona Nord e lei decide di andare a piedi. E questa idea, dice Catherine, mi dà la testa come un paio di martini a stomaco vuoto. Quindi la sua curiosità cresce, il suo interesse cresce, la possibilità di rigettare una piccola tentazione è evidente perché invece di andare al mare, deve togliersi dalla testa questo pensiero e deve andare all'ospedale. Nel tragitto, visto che c'è il sole picchiaforte, siamo in estate, il sole picchiaforte e vede l'ospedale in cui si immagina tutti i pazienti chiusi all'interno per cercare un po' di riparo dall'ombra. Sebbene la giornata sia bellissima, non si vede nessuno affacciarsi alle finestre o ai balconi o passeggiare nei giardini dell'ospedale. Piuttosto, Catherine stessa trova una panchina, sarà stata una ventina di metri dal pronto soccorso e si siede. Si siede là, accanto al pronto soccorso c'è un'ambulanza che sembra addirittura sonnecchiare tutto è molto rallentato per il caldo. Mentre sta seduta su questa panchina, le passa davanti una figura un po' curiosa e sarebbe a dire, passa un sacerdote un sacerdote con l'abito talare un abito scuro che indossa nonostante il caldo e questo sacerdote in qualche modo ha un'aria familiare ma lei non riesce a capire viene subito distratta da tre bambine che lo seguono e dice che le bambine lo seguono come tre pulcini e vanno tutte verso il pronto soccorso quindi si comincia a incuriosire la scena cosa sta succedendo qualcuno ha bisogno di assistenza medica forse a quanto pare no dopo una piccola attesa mentre il sacerdote con le tre bambine provano a ripararsi dal sole sotto una tettoia di plastica dopo una breve attesa da una porta di servizio esce un uomo con il camice quindi è un medico dall'aspetto a una quarantina d'anni e porta i capelli e i baffi che sono evidenti neri a questa visione Catherine sobbalza e dice che certe figure rimangono impresse nella mente quindi ora anche se porta i baffi l'ha riconosciuto subito e Yasin da quella distanza siamo una ventina di metri lei non è notata può sentire l'urlo delle bambine che lo chiamano papà e allora a quel punto si rivela tutto si capisce che il sacerdote è il fratello di Yasin che le bambine sono andate lì forse forse sono il sacerdote quindi lo zio di queste bambine sta facendo da babysitter e sono andate lì un attimo per incontrare il padre il quale il quale tira fuori dalla tasca alcune banconote ha un atteggiamento un po' distaccato bisogna dire che l'atteggiamento di Yasin per le bambine è un po' distaccato prende questo denaro qualche banconota lo porge al fratello guarda l'orologio come se si giustificasse come se fosse preso dagli impegni come se fosse una scusa per non stare troppo a lungo e torna indietro torna indietro rientra in ospedale nel frattempo il sacerdote con le bambine torna indietro rifà lo stesso percorso che aveva fatto all'andata quindi passa nuovamente davanti alla panchina di dove sta seduta Catherine e Catherine comincia a dire ah ora ho capito lo dice a se stessa non parla non c'è nessuna interazione con questi personaggi ora ho capito lo sente addirittura sente le bambine rivolgersi al sacerdote con l'appellativo di zio in turco e quindi capisce che le bambine appunto sono state in qualche modo affidate al sacerdote come che sta facendo da babysitter forse magari il fatto di andare a prendere del denaro era era semplicemente un insomma probabilmente avevano bisogno di qualcosa e allora hanno deciso di andare a procurarsi prima il denaro per per un'attività o per chissà che ma insomma era una scusa non era così importante l'incontro tra le bambine e gli asim quanto piuttosto un accidente che che si rivela di fondamentale importanza invece per per Catherine perché così riesce a vedere non solo gli asim ma anche come la sua vita si è evoluta e allora lei si chiede beh sei diventato padre chissà dove la madre ma poi non saranno neanche fatti miei piuttosto cosa ci faccio io qui perché sono venuta qui a cercare di vederti in ogni caso non si dice assolutamente pentita o non si dice assolutamente delusa da questo da questo incontro che effettivamente non c'è stato l'ha solo visto anzi dice che che è stato bello rivedere gli asim ma adesso è il caso di chiudere un po' definitivamente con con questa storia e tornare al motivo per cui lei si trova a cipro quindi al suo lavoro ai suoi impegni è il caso di dimenticarsi di di asim e per farlo si toglie si sfila il braccialetto quello che appunto era stato regalato da i asim tanti anni prima e lo abbandona sulla panchina lo lascia lì e si riavvia a passo sostenuto verso l'albergo fa molto caldo c'è il sole durante il tragitto un po' agitata un po' affannata comincia a sudare e ci sono delle gocce così si chiude il primo capitolo siamo a pagina 14 ci sono delle gocce che scendono lungo la sua fronte e si insinuano nella cavità tra l'occhio e il naso e vanno giù sulle guance queste gocce di sudore danno l'impressione che si tratti di lacrime e a dire il vero potrebbero essere lacrime e quello che lei si chiede è appunto sì forse sono lacrime forse sembrano lacrime ma non saprei ben dire se si tratta di lacrime di tristezza o di felicità quindi qui si chiude il primo capitolo che può essere letto come un un racconto a sé stante dalla prossima volta andremo avanti invece con con il romanzo perché da questo primo capitolo da questo racconto da questo seme si sviluppa poi tutta una storia che che rivelerà in retroscena quello che c'è stato prima e quello che ci sarà successivamente tra Catherine e Yasin grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto